giuro vi metto un operatore e basta un secondo solo lo sai che cosa hanno in comune gli artisti e i cecchini i dettagli come quando un colore è fuori posto quando un'ombra stride con l'ambiente quando una sagoma non è dove dovrebbe essere ciò che cambia è la posta in gioco io rischio di più grande ci siamo e raga ci siamo ho fatto un'altra micro live vergognosa che non dovete guardare il precedente spero che non l'ha salvata mi pare che su twitch non li salva questo cazzo di tablet benvito a tutti tutti quelli che mi hanno mandato richieste in quest'ora di tag un secondo e partiamo e chi invitano? ma l'hai trevato tutti ragazzi Tom Clancy ecco Joker c'è ok ci siamo ragazzi io mi illudevo che era entrato qualcuno la caccia terroristica è un po' più tranquilla difficile perché il realistico è una follia mori con uno sputo te sputano e muori e muori sul corpo ok apro la chat di tu di questo video tremendo che ho fatto ammazzo quanto so brutto da lì ho rinvitato altra gente e me ne sono andato porca cazzo se l'ho rifatto di nuovo regà l'ho rifatto quando faccio la live non ragiono e finisco questa arrivo comunque non mi fate l'invidia al party ragazzi perché mise in palla live non so se riuscite a trovarmi i nemici si stanno radunando difendete l'area mi pesano come viaggia non incadinare tutto ingresso sicuro quanto so sicuro finestra rinforzata quella il trailer era molto più facile tenete l'ostaggio al sicuro nemici in avvicinamento muro rinforzato la squadra d'attacco ha un contatto visivo con l'ostaggio paura regà grazie regà oddio il tasto per sbassarmi ti fa l'auto eh vabbè sto confuso che non ho un cazzo di mirino su sto fucile poi dici che sto una pippa mica ci ha messo sto cazzo ci ha messo oh ma quanta vita c'ha no vabbè no vabbè taglia tutti così alla cieca ci si stanno radunando ricarica adesso ho fomentato convinto che sta a giocare in multiplayer a giocare in perca ragazzi state riuscendo ad arrivare so contento un attimo sto sistemando ancora ok live prima l'ha salvato ragazzi ragazzi vi piace twitch che non si è iscritto non può commentare però iscrivetevi e seguitemi questo mondo ah no ragazzi parca traia ma che se stanno a culo a uno da qualche parte e dai li ricuratemi da nuovo ciao corvo ciao il corvo cioè ah cazzo mi sono scordato il primo quadrato è il primo live che faccio qui io di solito sto su youtube quindi non sono ancora bene non so bene come si fanno con me sono sti impostazioni iscriviti al canale se te va cioè iscriviti come si dice qua seguimi fallo qui ok qua rimettiamo ah corazzata pochi occhi porta sicura questa è quando cambia la rapidità dei colpi io metto a tre così che è meglio non lo faccio mai però è molto meglio grande raga è quello sferato voglio bene perché poi c'è il rischio che troverete tanti altri youtuber gamer cioè pure più bravi di me però mi fa piacere perché è più serio twitch quindi preferisco pure voi che passiate di qui come se lì alla destra alla destra no dietro di me e due volte che muoio così con deficiente bravo il corvo grande pure te hai lo stesso nome sia su youtube che su cazzo ci si va la luce bravo raggiungetemi come amico il cartolidano sparato ovunque però io sfrutto l'occasione che avrà bene stommori già è passato tutto il giorno cercando di fa sto cazzo di incollegamento fra youtube e twitcher non c'è twitcher non c'è riuscito twitch twitter certo e poi vieni su rainbow vogliamo giocare insieme quello intendi si si vabbè io tanto sono morto fondamentalmente sono inutile questa partita tenetelo sta già al sicuro nemici in avvicinamento morso qualcosa vabbè aspetto un'ondata così mi vivi punti aspettate un attimo attenti la squadra d'attacco video l'ostaggio aspetto magari poteva essere più utile facendo questo io proprio sono un coglione però da dove sta sparata al buco hai capito l'intelligenza artificiale è mica da poco si sofforte come te chiami però ricorda missione fallita difensori uccisi Igarox su PSN non mi ricordo i nomi fate come il Corvo che è stato intelligentissimo e anche come me c'ha lo stesso nome su tutte e due così è una sborta grande gioker si modo invito allora invito te però Igarox non mi ricordo il nome quindi dimmelo guarda a destra regà perché c'è il tablet non è che c'è il torcicollo sto tipo così tipo antichi egizi che fatica fatica postazioni solo chat che voglio mettere perché sennò consumo tutto internet con cui Twitch è più rapido io non so anche il formato se si vede meglio o peggio sicuro però mi dà meno problemi internet aspetta invito i giocatori quindi invito me stesso Doppler Gangler allora un attimo troviamo il gioker non mi ha detto ancora il nome però ah ok Igarox comunque a posto I'm Garox eh lo so regà io sono drogato ho una memoria di 3 minuti non per niente ma mi scordo tutto dopo un attimo la I la I c'è Irodafne Intocable Imorishi Igarox ecco di qui Igarox c'è Simon Simone non lo trovo mai cazzo la S dove eccolo io mi aspetto un pochetto regà però cerchiate di essere celeri vedo che Joker fa da sé grande Joker come cacchio fai troppo forte riesci a entrarmi nel nel coso prima ancora non ti avevo mandato l'invito ti stavo mandando stavo via Marco grande cazzo sono troppo forti o ti ho invitato prima ma non lo so comunque mi sa che qua posso pure elevare sta cosa dei messaggi che arrivano dopo ci siamo ragazzi io ci stiamo organizzando ciao grande ecco di non mi chiude su Twitch che siamo in tre siamo noi tre su Twitch io te e Joker praticamente pure a guarda che live su Twitch dice tre quindi aspettiamo Simon perché se no mi fa più male mi invidi e poi dopo non mi aspetti e poi tutte le volte mi pare che manca solo lui insomma cariche ho stato quattro ore a cercare di far partire il link alla fine mi sono fatto cioè giocavamo bene io ora mi è arrivata la notifica che stai facendo live su Twitch mi sono registrato solo perché c'eri tu ah grande allora è arrivata la notifica da paura allora funziona io pensavo di no tre quattro ore che ci sto a smanettare da paura mi sono fatto il video alla fine ho fatto così perché se no perfetto vabbè niente conto fino a dieci dieci cioè conto a ritroso da dieci dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno zero niente andiamo anche perché probabilmente sta a finire la partita poi tanto me lo scriverà allora che se fa l'altro ha l'altro